Giuseppe Garibaldi Il suo nome lo conosci, lo so E forse conosci anche uno dei suoi soprannomi L'eroe dei due mondi I due mondi sono l'Europa e l'America del Sud Perché Garibaldi ha combattuto in entrambi i continenti Garibaldi è nato a Nizza, sotto il regno sardo Da genitori italiani, Liguri Il padre era marinaio E anche Giuseppe all'inizio sceglie la via del mare Parte come mozzo e naviga moltissimo Nel Mediterraneo e non solo Nella locanda di un porto russo Entra in contatto con le idee mazziniane Da quel momento la lotta per l'unità d'Italia Diventa il suo obiettivo Partecipa ad alcuni tentativi falliti di rivolta Si dà la clandestinità e ripara in Brasile In Sud America non se ne sta con le mani in mano Combatte in diverse battaglie per l'indipendenza dei popoli locali In Uruguay conosce una ragazza del posto Anna detta Anita e la sposa Nel 1848, un anno fondamentale Garibaldi rientra in Italia per partecipare alla fase finale Della prima guerra di indipendenza contro gli austriaci Dopo il fallimento della Repubblica Romana Garibaldi cerca di raggiungere Venezia Che ancora combatteva contro gli austriaci Durante l'avventuroso viaggio Anita si ammala di malaria e muore Garibaldi va all'estero Passa anche un periodo a New York Ma non resiste Torna per partecipare alla seconda guerra di indipendenza Al comando dei cacciatori delle Alpi Al termine della seconda guerra di indipendenza Alla testa di un plotone di mille volontari in camicia rossa Garibaldi sbarca a Marsala dalla Toscana E libera il sud d'Italia dai Borboni È il 1860 Ripeto, 1860 In campagna Garibaldi consegna i territori conquistati a Vittorio Emanuele II Che diventerà il primo re d'Italia E secondo te, Garibaldi, si ferma qui? Ma no Contro il parere del re Prova a marciare verso Roma per liberarla dal papa E viene ferito in Calabria alla Spromonte Il 29 agosto 1862 Indovina da chi? Beh, proprio dalle truppe del re Ovvero dall'esercito italiano Cinque anni dopo, ormai sessantenne Ci riprova Ma viene di nuovo bloccato a Mentana Stavolta dai francesi alleati del papa Muore a Caprera, in Sardegna Dove si era ritirato nel 1882 Si sentiva un po' dimenticato dall'Italia Ora unita, Roma compresa Anche grazie a lui Aveva 74 anni Quasi 75 Tutto chiaro? E se non è chiaro Ripassa da qui Ripassa da noi